Un po' un'autoironia nel momento in cui sappiamo di stare a parlare in un contesto storico in cui molto spesso ci troviamo a percorrere non la strada per trovare il lavoro ma la strada per doverlo salvaguardare perché siamo lì lì per perderlo e purtroppo è questa la realtà in cui viviamo oggi sono queste le realtà in cui noi ci imbattiamo tutti i giorni e proviamo a cercare di tutelare i lavoratori